Ciao amici di Romics, siamo i raggi fotomici e da un po' di tempo ci frulla in testa una domanda E se le SineTV cantassero esattamente ciò che si vede nel video? Forse succederebbe una cosa tipo questa Piri i fumi verdi pur di avere quel bijou ed ora sul bracciale ti ci guardi la tv Ti riempirai di croste e un dermatologo non c'è per te Hai le allucinazioni carrellata di mostrilli, arriva l'uomo lupo che ora è il demo gorgone Ancora mostri a caso forse per riempire il video ben dieci Che vinci ben dieci? Cambia lo stile e la grafica, questo è secondo in falsifica Poi danno i numeri a grafica, e 8, 9, 10, fiamme Spider-Man Spaccava di melt Orgine, Dragon Ball Melano portobello, Giambo, Ale La sigla letterale che hai appena visto ovviamente è stata risuonata e cantata da noi Ma ricordi quella originale? Nel 2005 a comporre la canzone di Ben 10 è stato Andy Starmer mentre il canto era affidato a Morsi Per chi è cresciuto nei primi 2000 questa sigla è un vero e proprio cult La serie è stata prodotta da Cartoon Network, gli stessi delle superchicche di Adventure Time o del mio Gumball E vanta una quantità incredibile di merchandising, videogiochi, film, serie tv La sua celebre videosigla con Ben che si trasforma in creaturi aliene che rimanga tra noi al limite del demenziale Non poteva che diventare un literal Scopri tutta la nostra musica sul canale Raggi Fotonici Official e... Alla prossima sigla letterale! Metti un mi piace Segui i Raggi Fotonici anche su Instagram e su Facebook Iscriviti a questo canale Ecco, sì, bravo, vai col dittino proprio lì Sì, bravo, vai col dittino